Il tempio è un tempio doppio. Con le celle addossate l'una all'altra, con un orientamento particolare, cioè la cella di Venere verso l'Oriente e la cella di Roma verso l'Occidente, cioè verso il Foro. Abbiamo realizzato alcuni progetti di grande importanza culturale, aprendo delle aree archeologiche che erano chiuse e inaccessibili da oltre 30-40 anni. Cioè qui dentro, per esempio, non si entrava da circa 30 anni. Quindi siamo aprendo ciò che era chiuso, inaccessibile, oscuro. Lo dobbiamo fare perché questo ci chiede il turista che viene da tutto il mondo.